Oh, ho come l'impressione che questa sarà una mappa horror, spero di... che cosa? Ma... cosa? Ma cos'è un bug? Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi mi trovo all'interno del vostro server preferito, sì l'ho detto, l'ho detto, il vostro server preferito perché ogni volta mi fate tantissimi bei livelli e quindi vediamo cosa avete combinato questa settimana. Oh, sembra essere costruito molto molto bene, sono curioso. Ciao Kendall, mi chiamo Daniel, oppure I don't know Danny in game. Questo sarà un livello con tutte le dimensioni di Minecraft, spero ti piaccia. Metto in ferro, armo le spade, ok, ok, quindi tutte le dimensioni di Minecraft. Beh, che dimensioni ci sono su Minecraft? Allora, c'è il mondo normale, poi c'è il nether, poi c'è l'end e basta. Mi sto dimenticando qualche dimensione, spero di no. PS, ogni dimensione contiene un item per poi craftare. Ok, allora, c'è soltanto un problema. Uh, che abbiamo qua? Un iron ingot, molto bene. Qua ci sono dei pulsanti che... ok. Dicevo, c'è soltanto un problema, il fatto che non mi ha dato minimamente della regeneration. Quindi, se dovessi prendere danno non posso più rigenerare la vita. Allora, scuzzupi di topi schifosi. Topi di tutte le categorie. Topo del nether, topo della... D'ah! Della pietra. Topo schifoso, silverfish, mori, 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 mori. Lasciami stare. Ok, abbiamo uccisi tutti. Perfetto. Avevo promesso al cartone di questa mappa di uccidere tutti quanti. No, però la strega no. Mori, mori prima che mi avvelena. Mori prima che mi avvelena. Mori. Quanto ci vuole? Oh mio Dio, ok. Wow, posso entrare all'interno dell'end? Kawabunga, via! Ah, pensavo... ok. Eh, ciao Andy. Non siamo... Ok, è morto. Non importa. No, mi sa che non è morto. Mi sa che non è morto. No, non sono morti. Oh, cavolo. Ah! Eh, vabbè. Dai, ma senza vita come faccio ad ucciderli? Ragazzi, quando mi fate una mappa vi dovete ricordare di darmi delle mele d'oro oppure della regeneration perché in questo server non si rigenera la vita. Ci sono piccolini però non possono attraversare se non apro il cancelletto quindi... Ehi, mi ha colpito. Ehi! Basta! Cosa fai? Come osi colpirmi attraverso il muro? Ok, quindi adesso ci abbiamo due di Iron Ingot. Ah! No, 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 no. Volete vedere ragazzi che mi vuole far craftare un elmetto in ferro? 40 secondi di veleno. Ok, conviene buttarsi adesso altrimenti c'è un muoio di una caduta poi un problema. Non guardare gli Enderman, non guardare gli Enderman. Non ti hanno fatto nulla. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qua c'è dell'acqua che non so a cosa serva. E ora MLG. Oh, no! Ottimo. Ok, e ora MLG. Oddio, ho capito! Vuole che io crafti un secchiello. Prendo l'acqua. Eh, ma non me la fa prendere. Eh, ma non funziona così nel server. Non posso prendere l'acqua. Ok. Quindi mi dispiace che non posso utilizzare l'acqua. Mi butto lo stesso sperando di non morire. Oh! Spero che sia stato di tuo gradimento. Sì, grazie mille. Anche se ci ho messo fin troppo tempo a finirla. E purtroppo non sono riuscito a uccidere gli Enderman. Ma, ehi, non è colpa mia. Kendall che fa canestro? Ma, cos'è? Mi hai fatto una mappa di basket. Vediamo, allora. Ciao Kendall, questa è la mia terza mappa. Divertiti. Ci saranno ben sei prove. Questa mappa non ha una storia. Mi dispiace. Ah, ok. Tutto è stato testato. Quindi tutti questi salti e tutte queste cose sono possibili. Ah, ok. Vabbè, dai. Se mi dà tutte queste cose. Volentieri. Ammazza tutti. No, no. Il veleno. Chi è che mi sta tirando il veleno? Ehi! Wow! Wow, wow. Cosa sta succedendo? Perché mi arriva il veleno da sopra? Beh, qua intanto è pieno di mostri. Mostri molto cattivi. Ma io per fortuna ho un arco. Ho finito le frecce. Mannaggia. Oh mio Dio. Ma che è la spada più potente di Minecraft? Questa? Però aspetta. C'è la sharpness. Mi sa che non ha sharpness. C'ha tutto quanto tranne sharpness. È una spada inutile quasi. Va bene. Ok, allora. Allora, mangiamoci subito una mela d'oro prima di morire. Mettiamoci il corpetto come l'avevo dimenticato. E questo qua invece che cos'è? Ah, blaze rod con sharpness 5. Mi sa che conviene utilizzare la blaze rod allora. Vediamo. Da quando vi ho detto che odio i silversi li mettete in ogni mappa? Mmm. Tempatici. Quindi le prove di PvP non sono state molto difficili. Ok, i ragnetti e della verità mi fanno altrettanto schifo. Non quanto i silversi... Che fine ha fatto? Ma ti è suicidato? Ma si è ammazzato? Quindi i rossi sono dei salti difficili. Lo vedremo. Ok. Ecco. Vabbè, se già sbaglio i gialli voglio proprio vedere i rossi come saranno. What up? Ho mangiato tanto questa mattina. Per questo non riesco a saltare. Vai. Vai. Vorrà mica che io salga sulla testa di questo... Non posso. No, sicuramente non posso salire. Ok. Oh mio Dio, ce l'ho fatta ragazzi. Ho appena fatto uno dei salti più difficili di Minecraft. Jump boost. Molto bene. Vai su. Ottimo. E adesso devo andare di là. Piano, 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 piano. Che è andato a sbagliare? Oh mio Dio. Che è successo? Che mi ha dato? Slowness. Ok, dovrei riuscire a farcela lo stesso pian piano così. Volo con l'elitra. Va bene. Sì, non ho problemi. Oh, e vai. Mi ha dato l'elitra con i razzi. L'ultima volta mi sono divertito veramente tantissimo ragazzi ad utilizzarla. 3, 2, 1. No, 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 no. Oh, posso entrare qua dentro. Aspettate allora. Fatemi mangiare prima questa mela d'oro. Un'altra. Un'altra così non rischio di morire. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Dai, 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 la sto passando. Sì, ci siamo riusciti. Quello era veramente molto difficile. TNT run e labirinto. No. Ma scherzi, questo è impossibile. Non ho mai fatto un TNT run e labirinto. Oh mio Dio, oh mio Dio, corri. Che è successo? No. Mannaggia, ho laggato. Sono tornato indietro. Ok, ci siamo riusciti. Perfetto. TNT run. Oh mio Dio, questo sarà difficile, questo sarà difficile. E' un TNT run e labirinto. Oh, no, 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 no. Oh, no, non ci posso credere. Non ho mai fatto un TNT run e labirinto, ragazzi. È la prima volta che lo vedo. E ora sono sicuro che tutti quanti lo metterete nei prossimi livelli. È più difficile di qualche sembri, ragazzi. Non ce la faccio. Vai, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Dai, vai giù, vai giù, vai giù. Perfetto. Ok, TNT run. Quindi di qua non si va. Si deve andare di qua allora, presumo. Via. No, dai, però... Ma che è successo? Vai, su, 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 dentro, 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 dentro. E vai. Ok, ragazzi, io ci provo l'ultima volta, ma questo TNT labirinto è veramente impossibile. Dove diavolo devo andare? Vai. Ok, ok. No, 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 cosa? Ho laggato. No, vabbè, basta. Pure il lag si mette contro di me, ragazzi. Ero riuscito a finirlo e mi lagga? Kenda, l'amore mio. Cosa? Vediamo un pochettino. Kendall, trova il tesoro e vinci. Gioca con la luminosità al minimo. Ok. Luminosità al minimo. Buon divertimento. Oh, come l'impressione che questa sarà una mappa horror. Spero di... Che cosa? Ma... Cosa? Ma cos'è? Un bug? Eh, non mi fa passare. Si apre solo la porta di sotto. Perché si apre solo la porta di sotto? Raga, ma cosa sta succedendo? Oggi tutto è contro di me, per non farmi registrare un video. Guardate! Si apre a metà la porta, ma non ha senso questa cosa. Non posso passare. Ciao Kendall, mi chiamo Dragon's Bear. Questa è la mia terza mappa per te. Dovrei affrontare delle prove per raggiungere la tua grande sorpresa. Ok. Mi vesto. Ottimo. Adoro queste mappe dove mi vesto automaticamente. Ok, presumo che io debba scendere qua giù. Finalmente posso combattere qualcuno. Senti, piccolo zombo, io sono veramente arrabbiato oggi. Quindi devo veramente sfogarmi con qualcuno. Becca con una freccia il pulsante giusto. Eh. Però io ne ho una freccia. Non è giusto. Come faccio a sapere qual è giusto? Ah! L'arco è infinito, quindi ne posso stare quanti ne voglio. Ok, allora. Proviamo quello. No. Proviamo quello. No. Proviamo... Ha aperto qualcosa. Ha decisamente aperto... No. Che è successo? Sei chiuso. Oh, ok. Perfetto. Quindi il pulsante giusto era questo qua. Bravo. Ora la prossima sfida. Parkour. Travo un modo per salire e fallo. Beh, ovviamente devo utilizzare l'acqua. Presumo. Oh mio Dio. Ci sto nuotando dentro. Oh mio Dio. Avevano tantissimi mostri. Ma se per esempio lì iniziassi ad annientare così con le frecce da quassù... Eh, ragazzi, signori, mi avete invitato alla festa? Mi sa di no. Mi sa che lo devo fare in speedrun. Tipo così. Sì, infatti... Oh! Mazza. Mazza, sono troppo forte. Secondo Kendall. Grazie. Mi serviva proprio una bella mela che salva Kendall. Ah, devo continuare. Non cadere. Non cadere. Non cadere. Non cadere. Atterraggio morbido. Ok. Sono pronto. 3, 2, 1. Anzi no, aspetta. Prima. Non si sa mai. Ammazziamo prima quello perché non si sa mai. Via scheletro. E basta. Ok. 3, 2, 1. Vai! Perfetto. Facile, eh? Vedremo. Beh, considerato che li ho uccisi tutti quanti a distanza... Direi sì che è stato facile. Tornerò. Premio. Vediamo che premio è. Oh. Mi hai dato uno standard di Minecraft. Spero che il livello ti sia piaciuto. È la prima volta che mi date un premio quando finisco una mappa. Grazie mille. Andali in razzo. Allora, penso già di aver capito cosa devo fare. Questa volta sono tornato per farti giocare. Oh, ok. Penso di aver già capito. Sì, sì, sì. Elytra. Ok. Razzo. Un bel... Una bella corazza. Molto bene. Sono pronto. Oh mio Dio, che figata... Eh, vabbè, ma sono... Andavo troppo veloce e mi sono schiantato contro il tetto. Uno. Oh mio Dio, che figata... No, vabbè, ragazzi, ma questa nuova funzione di Minecraft è veramente troppo spettacolare. Sono contentissimo che l'hanno giunta. Ok, vai. Eh, vabbè. Ma sono troppo forti questi razzi. Mi schianto contro il muro, ma ammazzo. Cavolchiamo l'acqua e... Sì, abbiamo finito questa mappa. Ora però sapete cosa? Eh, mi conoscete bene tutti quanti. Tanto gli lasciamo un bel mi piace. Ma io adesso direi che è arrivato il momento di provare di nuovo questo Elytra. Al contrario. Via! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Wow! Wow! Ciao, c'ho un fan là! Ciao! Ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video di Minecraft. E dal vostro imperatore Kendall è tutto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Oh mio Dio!